Siamo felici di prendere parte di questo evento inaugurale che si terrà a Milano e siamo felici perché ecco qui ci sono due opere di Giuseppe Siniscalchi e quindi del fruttoresismo, due opere di pace e l'augurio che noi facciamo è proprio questo, che anche questa inaugurazione, questa nuova mostra che si tiene in un luogo così privilegiato, così importante, possa veramente essere anche un augurio di pace a tutti. Qui siamo al MUDIMA, Museo Invece Sala di Maturini di Altamura e magari se volete vedere queste due opere di Giuseppe Siniscalchi vi aspettiamo anche qui. Bellissimo il MUDIMA con le luci naturali che filtrano da questi spazi e dal meraviglioso rosone centrale che ha dei colori splendidi che riflettono ancor più la luminosità e luce di queste opere, fronte del sismo, qui in permanente. primavera di pace, sperando che davvero possa essere una primavera di pace e pace lavoro, quello che occorre in tutto il mondo ed un pensiero particolare all'Ucraina in questo momento davvero triste per l'umanità. Sempre la donna di tornare allo splendido MUDIMA, luogo davvero menso di arte, cultura, bellezza e si respira un'atmosfera veramente di pace, quello che occorre in questo momento. Le luci sono naturali e c'è questa luce di rosone che è meravigliosa e si riflette su queste due opere, pace davvero e primavera di pace. Speriamo davvero che sia una primavera di pace. bello, sono le 5 e le quarti, carino, si riume in tutto. Speriamo davvero che sia una primavera di pace. Speriamo adesso. Speriamo adesso. Speriamo adesso. Grazie a tutti.